salve a tutti quanti oggi vi do benvenuto in questo nuovo nuova puntata di minecraft anzi è la primissima che riesco a fare e oggi inauguro il cos'è che devo inaugurare ciro no ma che cazzo è un server una nuova serie comunque con questa cazzo di presentazione di merda possiamo anche cominciare e che vi presento qui in questo angolino poverino soletto chi è chi è chi è the big head the big head si comunque abbreviato ciro si ci non ridere non ridere pezzente guarda chi ti ammazza sempre dai su andiamo forza ok visto che hai letto le regole aspetta dei prendere il letto e le torse perfetto siamo anche andare l'acca come l'alba no impossibile non apre la cesta mi deve alzare i permessi permessi aspetta te lo do io vai dammi una torcia tanto vai va bene dai andiamo no aspetta te ne ho lasciate altre ok hai letto le regole vero 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 dai leggiamole insieme dai dai va bene ok al primo regolo non si tocca lo spam nella scritta va bene è una cazzata ovvio ci si gioca ci si diverte e si gioca hita spider pork è un admin assoluto certo ovvio quindi lo si rispetta poi non ho la ram infinita va bene ok andiamo andiamo a nerdare che cazzo lei ci ha preso il fiamme guarda lì c'è un laghetto se vuoi no risolto risolto dov'è che andiamo a costruire la casa di là ci sono gli alberi meglio andare nel bosco perché non ci sono gli alberi ah si notare bella scritta spawn con me la freccia sopra l'hai visto ciro eh minchia fatto proprio bene si ci ho messo la lava lì mi preoccupo ci ho messo 10 minuti andiamo eh non posso distruggere niente come no? eh mi devi come lo stesso dell'altro mi devi alzare miiii aspetta stai fermo così riesco a copiare il tuo nome fermo 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 scusatemi per questi problemi tecnici ma upita de big head ok oh perfetto allora un fungo no ci sono i cosi i lupi i lupi ah cazzo ciao bel lupi scappa bravo basta non attaccare no meglio di no ci uccidono dove sei cazzo ah eccoci ah dietro di te aspetta vedo un lago vieni anch'io sei è un lago ghiacciato possiamo farlo lì su un'isola dove ci sono quei quattro alberi che si incrocia figata qua sai aspetta aspetta bisogna inaugurare la casa aspetta aspetta fatto uh anche te vedi la neve ah sì te figata figata sì non l'ho mai vista figata anche questa quadrattini oh cosa hai trovato una mera d'oro pezzente ma è doro ma com'è capiamo saltare infe tutti vitti diy ma sto mangiando come recupera vita però tipititititititzi ma lo che non ci sono le mucche si è la mucche no, non le vedo e senti perché non le vedi? o è un bug della texture o non ci sono proprio ma boscaiolo cos'è? ti ha dato una ciline? non lo faccio più facciamo subito il tavolo anch'io la mela d'oro, no beh ma io la mela d'oro allora ok fabbrichiamo il nostro legno con il legno ci facciamo i bastoni poi ho fatto il piccore con il legno e il bastone ci facciamo un'ascia allora vabbè, anzi si no, cazzo dobbiamo trovarci un rifugio forza forza quello lì non è un piccone, è una zara una porta, aspetta dobbiamo fare c'era la linea per fare una porta la porta di verde si, si, c'era porta oh, guarda che pito oh, che rinomato che rinomato non posso metterlo e ti manca lo spazio facciamolo se no qui arriva notte poi ci svegliamo e troviamo undici creeper fuori la porta undici, dai non esagerare ah abbiamo il bastone c'è giù ah no, ok uh, siamo già a metà video ah vai, metti il letto, no? no, no, il letto ma come non ce l'hai? falo con il legno, no? si, mi serve anche la cosa la corda come la corda? pezzente, da con te che non giochi minecraft aspetta qui aspetta dove vai? eh, secondo te dove vado? dove vai, Ciro? vado allo spawn vai a prendere il letto pezzente, non si usa il terri trasporto durante i video eh, vabbè cittone io ti ho detto di non cittare cosa serviva a leggere le regole? ma non c'era la regola degli re si che c'era no, c'era scritto non usare hack ma io non ho usato hack e c'è anche scritto non cittare no leggi bene eh, vabbè, per questa volta va bene, tollerabile, tollerabile una ma la seconda fuori ti banno subito boh che bella la neve, guardala si bella però sono gli scheletri arrivo, arrivo come fai? come fai a capire dove sono? eh non qua oh mio dio, come fai? no, 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 entra, entra ahah, vi abbiamo fregato i pezzenti ce l'hai il letto? eh? ce l'hai tu adesso il letto non ce l'ho come non ce l'hai? se me lo dai e te l'ho dato come? che te l'ho dato? ma non ce l'ho oh! entra dentro chiudi ah oh mio dio, mi fa paura guardalo guardalo la nostra porta di legno indistruttibile eh not today bah a ora ma io faccio mesi da una fornace a tema scontà ok ma adesso ma la me la dora infinita no da me non funziona A me si No è finita È infinita No è finita Cazzo Ho trovato carbone Che culo Carbone Carbone Si Mettilo dentro la fornace Così facciamo Torce Ce ne abbiamo abbastanza No Metti dentro la fornace Così Mettiamo a cuocere Il pietrisc Facciamo la pietra E poi facciamo i mattoni di pietra Oh Ma guarda come mi fissa Guardalo Fiero con l'arco Ti vuole bene Ma io mi costruisco Una spada La ammazza Se No Se Vediamo com'è la situazione fuori Com'è che si costruiva la cesta Tutta tranne quella in mezzo Ah è vero Perché è uno che fa la difenza Capito Cazzo Allora 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 Ok Ma che cazzo Che bene Dobbiamo costruire una casa sull'albero Questo è obbligatorio Giusto Giustamente No C'è un alberello di Natale Pezzente Dove l'hai portato via Eccolo Eccolo Aspetta Mettiamo qua Ma sorry Visto Aspetta Ci vuole le luci di Natale Aspetta Aspetta Perché albero di Natale Sembra un rito satanico Oh 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 Io ero con lo spirito dell'albero Ok basta Cazzato Ok ok Stiamo già esagando No No Che c'è? Che fai? Eh faccio Vado sull'albero no? Sì ma non di notte Chi vuoi che ci sia sull'albero Per nessuno Mela d'oro Mela d'oro Sai Tieni una mela d'oro Eh ne ho 14 Se sono infinite Come faccio? Non sono infinite Prima avevo visto dell'argilla Oh C'è qua sotto Un po' di argilla Oh Stanno attaccando Cosa? Ah Alla rembaggio No Cos'era? Scheletro Muori puttana Muori Ecco Andiamo a prendere un paio di lupi Eh Dove che erano? Beh mi faccio la Devo farmi la spada Un attimo No Di pietra Devo fare Ok Allora Vediamo un po' Io ho tre ossa No Ho fatto il piccone Ciro Dobbiamo finire la puntata Ah Adesso? Sì Now Bene ragazzi Nella prossima puntata Scoprirete se noi siamo andati a prendere lupi Perciò dovete seguirmi per forza Pezzi di merda No Scusate Non volevo dire questo Va bene dai Ciao Alla prossima